Toscana ieri, abbiamo avuto 12 casi in tutta la Toscana con due morti e vi li segnalo, un uomo di 33 e una donna di 84 anni. Nella Toscana sud-est di cui è compresa Arezzo, Siana e Grosseto non c'è stato nessun caso. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che noi abbiamo vinto, vuol dire che siamo stati bravi. Gli aretini, i grossetani, i senesi hanno veramente tenuto un atteggiamento correttissimo. Abbiamo avuto poi un ospedale di Arezzo, un ospedale Covid per eccellenza, che ha veramente lavorato in maniera ottimale, ma questo vuol dire che ancora noi dobbiamo comportarci bene. Io mi rivolgo ai ragazzi, cari ragazzi, siete giovani, avete tutto il tempo per fare la movida nel prossimo futuro, avete tutto il tempo di ritrovarvi con gli amici al bar a prendere l'aperitivo, avete tutto il tempo di andare a ballare e se le cose vanno bene riavrete tutte le cose che avevate prima. Però bisogna che siate bravi, perché chiaramente il mondo ci sta dimostrando che quando si allarga la presa nei confronti di questo virus può ricapitare. Guardate quello che è successo con la movida nella Corea del Sud, centinaia di casi tra i giovani e normalmente questo virus non aveva mai colpito i giovani in questi ultimi 3-4 mesi con questa insistenza. La stessa cosa in Cina, la stessa cosa in Germania, ma guardate lo zumani che sta succedendo negli Stati Uniti, siamo già a 100.000 morti, è lo zumani che c'è nel Brasile dove chiaramente le fosse comuni stanno diventando una condizione che ricorda la peste del 1300, la peste nera. Allora, voi dovete, la parola mia è dovete, è un dovere che avete, è un dovere civile, dovete comportarvi bene, perché vedete, se voi vi ammalate, lo Stato italiano, la regione toscana e la USL di Arezzo pagherà un sacco di soldi per guarirvi, perché l'animazione costa un sacco di soldi. Ma non solo, dico, ma se vi ammalate voi vi possono ammalare i vostri genitori e i vostri nonni e vedremo sparire quella fascia importante che sono gli anziani e che sono la nostra memoria storica. Noi non possiamo permetterci, lo dico anche per un egoismo personale, non possiamo permetterci di avere la perdita di tutti gli anziani che sono successi in Lombardia, dove abbiamo visto morire migliaia di anziani per errori della sanità non pubblica, la parola giusta è non pubblica, di questa regione.